Donne e Clyde Donne e Clyde cominciano a capire che per andare avanti c'è pure molto amore. Donne e Clyde cominciano a capire che per andare avanti c'è pure molto amore. Donne e Clyde Questa è la storia dei due si chiamano Bonnie e Clyde. Ma nella vita c'è sempre chi fa la spia nell'ombra, chi ti pugnala le spalle, forse è un amico. Questa è la storia dei due si chiamano Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde Per un'informazione si trovano prigionieri, non si può scappare. Sparano ma di città sono tanti e 400 colpi sono ancora di più. Bonnie e Clyde Grazie a tutti.